...degli 84 chilogrammi, sempre match valevoli per le sezioni IMAF. Accordiamo all'Ago Club, per il Sestis Academy, di Assisi e tra Gabriele Bartoni! E ora il sospedante, all'Ago Rosso, per Rumbo Studio di Roma! E ora il sospedante, Gianluigi del Coruso! Grazie! 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 Mane su! Mane su! Mane su! Sti! Mane su! Mane su! Mane su! Mane su! Mane su! Mane su! Un enlightened! Bravo! Bravo! Lentro! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.